Amici di Marchi Games, dopo la bellezza di quasi 25 giorni, torniamo a registrare su Marchi Games, quindi voglio tantissimi mi piace per favore. Sappiate solo che nei prossimi giorni barra mesi ci sarà un cambiamento sostanziale del canale, ma ve ne parlerò magari in un vlog che vi carico su questo canale. Intanto vi ricordo, il libro raga, non ho controllato come è andato in queste settimane, in realtà non ho visto oscillamenti pazzi, ma voi continuate a comprarlo se vi va. Oggi siamo su una mappa che si chiama Mushroom Fortress, dovrebbe essere bella, siamo con Nico e Loco, ciao. A me piace i funghi. Sì, ma non mi piace le golf, quindi compensa. Nico come me è depresso secondo me, ha un pochetto più. No, perché Nico, no, dai, non è solo. Io vado, no, sono andato forte, forse non dovevo andare forte. Ma devi andare forte. Eh? È giusto, guarda. Io sono tutto piano, ho sbagliato. Perché è sbagliato? Io forse vado troppo forte però per la buca, sai? Io ho fatto quattro e penso di fare. All in one! Anche Loco è entrato non dobbiamo. È difficile questa mappa, eh. È molto difficile. È veramente difficile. Perché due dava di parra, scusa? Ma come è possibile? Ok, questa... Uh... Questa secondo me si può fare, raga. Io la provo. Andiamo, facciamo così. Uh, all in one! Anch'io! All in one! Cos'hai fatto? Tu ti hai fatto lo stesso che ti ho fatto io? Sì. Ah, anch'io. E anche Nico... Raga, cioè, comunque, veramente, pazzesco. Però effettivamente possiamo dire una cosa contro Nico. Cioè, a pro di Nico, che lui in genere queste cose non le fa, siamo sempre noi che guardiamo gli altri. O almeno tu sei quello che guarda gli altri. Ma vai a cagare, ma cretino! Io qui faccio così... E me la faccio nel chilling. Oh, ma questa è impossibile, eh! E faccio così. In teoria, io la dovrei fare in tre. Ma io sono stato tanto bene senza colpa. Perché stiamo tornando a giocarci? Eh, così bello! Ecco qua, in tre. Chill, birdie. Ma santo il signore! Ma Nico, basta andare piano! Silenzio, silenzio, basta! Io stavo tanto bene. Anche io stavo bene a camminare nelle vieti New York. Raga, comunque aprirò un Patreon, se volete, dove mi finanzierete i viaggi, così almeno io sono contento. Scherzo, chiaramente, sto scherzando. Allora, questa come bisogna... Oddio, oh mio Dio, aspettate. Quindi mi batterei sul fungo. Sul fungo? No, lì vai sopra, di venire qui sopra. Non si facessi così direttamente? Ma che fungo, raga? Ma in che mappa siete, scusate? Nella stessa tua. E allora non vedete i funghi? Ci sono tre funghetti. Ehi! E mica puoi rimbalzare sopra? E come no, Super Mario? Io faccio così, faccio. Porca pucca! Io mi sa che ho sbagliato. Eh! Basta, ma basta! Ma allora, eh! Che non dovrebbe ne far quattro, zio, perica. Entra! Sono entrato in tre! E qui come faccio? Io provo a farla così. Magari mi colpisce, Marci. Magari non c'è. Io sto perdendo una marea di colpi. Ci sono cinque colpi massimi. Magari mi colpisce. Allora, aspetta, con calma. Mi piazzo dritto. E da qui, ragazzi. Mi puoi colpire se vuoi. Eh, no. Sono qui. È qui. Ti prego, scendi. Oddio, ora ho messo sei colpi. Non ho toccato i colpi massimi. Che cubo! Oddio! Oddio, ora ho cinque colpi massimi, raga, che avevo messo, eh. È di tutto una bugia. Eh no, perché abbiamo cambiato... Ormai è guai. Io sinistra. Io destra vado. Aspetta, c'è un portale là sopra. Dov'è? C'è un portale. Come arriva in quel portale? Eh, dobbiamo cercarlo. Portalito! Dove sei, portalito? Ehi! Sotto la cassa, forse? Sotto la cassa. Si troverà. È proprio quello. Io rivedrò. L'ho visto, l'ho visto. Cosa che hai visto? Un portale. Come l'hai visto? Eh, di... No, è impossibile arrivarci. Ma dove l'hai visto, scusa? È sotto la casa del cane. La cuccia, scusate, non la casa. Di là? Io ho fatto in tre. Voi fate la casa del cane. Tu la fai il cane, io ci provo. Ma io non so come arrivarci. Si imbalza, tipo così? Quasi. Io quasi ci sono arrivato. Si può ricolpire da qua? Io la farò normale, perché sennò poi lo convince e dice... Ho vinto, ho vinto, ho vinto. Qui però devi andare sopra, vero? In teoria se faccio così... No, no, non cadere. Ah, questo dovrebbe essere un salto. No? No, ce l'ha scritto no salto, ce l'ha scritto. Eh, allora, non lo so. Ok, dai, va bene lo stesso. Io ho fatto... Ho fatto i birdie. Va bene fatti in quattro. Sto a prendere un po' troppo terreno nei confronti di loco, quindi va benissimo. C'è da dire che però quell'all in one era carino, eh, raga. Quell'all in one era carino, carino. Comunque, voglio dirvi una cosa, voi fan che ci state seguendo. Che golf, raga, ormai è arrivato al termine della sua vita, probabilmente. Nico sarà contentissimo. No, un po' mi dispiace. A me dispiace un po' in realtà, perché comunque è il mio gioco preferito attualmente da giocare, quindi... Ci sta, ognuno ha i propri gusti. Ma io sono veramente caduto. Anch'io, Marci. Ti prego, cadiciù, cadiciù, cadiciù. No, vabbè, raga, guarda dove sono. Eh, Marci, il karma. Ma il karma è tua madre, comunque, eh. Guarda un po' che non lo sentivo nominare il karma. E non ci è stato tutto per due settimane, ci credo. Non è mai, infatti stavo molto bene senza karma. Si opera, si opera. Penso il karma senza di me, entrambi. No, non rientrare, non rientrare, non rientrare. Sbaglio questo, perdo. Ok. Bravo, Marci, hai perso, loco? Ma quanti colpi ha? Oh, basta? Eh, sono otto. È otto, purtroppo. Ma tua sorella! Dai, adesso lo fai, loco. Qui ho fatto tipo tre, che è una roba del genere. Non mi ricordo quanto ho fatto. Eh, ma che c***o dici? Sì, ma tranquillizzati, bro. Che fortuna. Io ho fatto tre, comunque. Forse due e mezzo ho fatto. Uno e mezzo hai fatto! Ma cosa vuoi? Ma non è vero, ragazzi, guarda. Eh, vabbò. Vabbè, c'è ragione di lui, raga. No, vabbè, non c'è ragione di lui. Dai, dov'è l'inghippo qua? Io so che faccio l'inghippo. Eh, guarda, io l'ho già visto. Fai così? No, non è vero. Come fai ad arrivare là sopra? Come cavolo? Secondo me si può fare, ma devi arrivare tipo vicino. È alla base di partenza, no? Eh, sì, infatti farò così. Loco, vai prima tu, per favore, che così se no ci intacchiamo qua. Ok, ma non ha capito lui. Vabbè, raga, scialla. In tre. Easy. Io potrei farlo in due, però, se faccio bene questo salto. Non ha funzionato un cavolo, comunque, sta cosa. Cioè, letteralmente non è servito da nulla. Non è servito. Secondo me il Solin non esisteva, eh. Ma vai a cagare, dai! No, il salto ce l'ha scritto io non metterlo. Devi colpire all'estero, cioè, indietro per poi andare avanti, che poi ti portava sopra. Eh, c'è ragione tutto te, Loco. Sono troppo intelligente, sono troppo intelligente. Non ho capito. Sono più intelligente i te, non più capire. Buki, in cinque. Raga, va bene. Calma. Sapete che all'inizio io sono come un diesel, fa fatica a ingranare. Questa è per poche, in realtà, perché loro due sicuramente non saranno... Non sapranno di cosa sto parlando, ma va bene così. È una macchina di diesel. Uuuuh. Dico, è la macchina? No. Qua c'è una bella buchina, eh. Qua sei buca sicuro. Ma lì c'è una buca, raga. Ma lì dove? A destra. Don't care. Ah, eh, quella era carina, eh. Eh, ma non so come si può arrivarci. Secondo me non ci si arriva. Un po' come tutti gli altri One-in-One di Stamata. Dai, ma entra dentro in sto buco. Io sono... Sono uscito. Mi sa che lo farò anch'io, normale. Mi colpisci? Ma contaci. Ma guondaci! Ma guondaci, proprio tutto guondaci. E qui dove bisogna andare, scusate. Avanti, sotto il fungo. Ma non tocco il fungo. Andre the fungo. Non tocco il fungo, è vero. Ti colpisci Marci? Sì, ti colpisco, dai. Va bene. Ah, sì. Non sei obbligato. Lui ma è stato di beccata, ma non come. Hai ragione anche tu. Da dove hai ripartito? Eh, nulla di che. Beh, però ha perso un due colpi, ha perso. Tua sorella ha perso due colpi! Tua sorella! Va bene, va bene. No, ma il fatto è che non ho una sorella, quindi nel senso, va bene. Dov'è l'Olin-One? Dov'è? Uh, l'ho visto. Ma scusa, ma non sono raggiungibili! Ma che mappa stiamo giocando? Io ci ho quasi raggiunto. Io l'ho raggiunto. Vabbè, eh, bravo. E che te devo di... Ma che cattivo sei, loco? Ma che cattivo sei? In realtà... In realtà Nico non ti ha fatto niente. Vabbè, ma quello è... È un'oggettività quella. Ci sta comunque dirla, no? Si scherza, loco, no? Si scherza, sto tranquillo. Non lo sa rabbia. Dov'è l'Olin? Dov'è? Qui c'è l'Olin-One da qualche parte? È un forte! Oh, è lì sotto, no? Dov'è l'Olin-One? È un gè. Come c'è l'Olin-One? Ah, c'è che gè. È difficile, eh. Dov'è che l'hai visto? Ah, sì. Copiatemi tutti, dai, bravi. Su, copiatemi tutti. No, l'ho visto dopo io. Sì, 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 no, ok. Adesso tutti mi copiano. Ma come hai fatto a sapere che era quello lì, scusa? Vuoi intuito. Bravi, eh. Bravi. A me mai non ha funzionato. L'hai fatto in quattro? L'ho fatto in quattro, sì. Perché a me non funziona? Ma ho fatto la stessa identica cosa di prima, eh. Eh, forse non hai beccato il quadro. Pari, 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 eh. Va bene, dai. Due. Va bene in due. Va bene in due. Va bene, raga. Va bene. Bravo, no, con la copia. Bravo. Bravo. È lo stesso Only One di prima? E provarlo, Nico? Potenti? Effettivamente potremmo provarlo. Potrebbe esserlo. No, funziona! Ok, meno male che ce l'ha detto. Però un altro Only One sicuro c'è, secondo me. Vediamo un po'. Ah, io lo sto cercando. Allora, i tubini ormai non sono. Secondo me sì. Porca miseria. Only One! Oh mio Dio, l'ho trovato! Ma come sei sbagliato il tiro? È quello con la scatola, vero? È dove c'è la scatola, Oquis? Ma sei sbagliato un tiro? Come ho fatto a fare Only One? Dai, diccelo, Loco. Cioè, lui ti ha detto tutto. Ma te l'ha detto lì, Nico, prima. Vabbè. Ti avete insultato? Io non insulto nessuno, comunque. All in one. E dove c'erano i fiori, Nico? Non importa, la faccio come voglio farlo. È una cattiverena udita da parte di Loco, comunque. Questa cosa non è stata corretta. Se mi avessi lasciato il tempo, te l'avrei detto, Nico. Io sono a posto con me stesso. La vita ricambierà con la stessa moneta con la quale tu giochi. Dai, ora sei dritto? Fermati, però, perché sennò mi incavolo. Ok, in sé, va bene. Si è riaperto tutto, però. Erano i fiori, hai visto? Erano i fiori. Non li ho visti i fiori. Erano i fiori. Ti ho detto che erano i fiori. Adesso, aspetta un attimo che ora ti dico io l'ho lì. Oh. What? Ho trovato un Only One per dopo. Anch'io. Non è nostro. Inserito il nostro. Nel tuo tubo, in fondo, dopo i funghi. Quel tronco, esatto. Eh, ho capito, ma come ci arrivi? Eh, non lo so. Ma non è quello? Secondo me c'è qualche... Eh, prova te. Prova tu per noi, dai. Ti fai perdonare per Nico. Ho già parlato prima. Cosa ho fatto? Non ho capito, Nico, cosa hai fatto? Hai sbagliato? Volevo fare un esperimento. Ah, dici che c'è qualcosa lì? No. Non c'è. Però magari poteva esserci. Ho fatto l'in-one, però Loco mi ha copiato. Sì, ma tranquilli, ragazzi, dai. Non è bello quello che stai facendo, Loco, eh? Perché dovremmo dirlo anche a Nico queste cose. Non è corretto quello che stai facendo. Ma sì, ma è una sfida. Ma che a me frega a me. Una sfida chiamata vita. Beh, se la vita è una partita di golf, siamo messi abbastanza male. Facile, hai visto anche te? No, che cosa? Il coso destro. Dietro di noi. Cioè, il nostro buco di prima, in teoria. Eh, ma non può entrare. È qui, è quel coso lì. Esatto, ha ragione Nico. Ah, eccolo. Io le dico a differenza tua le cose. Forse non devo andare proprio così. Secondo me è difficile quello, eh? Fatto. Come in tutte le buche, devi andare a quattro. Ma io sono andato lì, non è andato! E mi importa! Ma io non ci arrivo, raga. Faccio di colpire l'angolo, devi rimbalzarne l'angolo, tipo. Un pelo più interno dell'angolo. Un pelo... Bravo. Ok. Non ti hai fatto, Loco? Ho fatto tre. Eh, nei quattro. Scusate. Scusate, ma ci stava. Ci stava. Ah, no, due. Il karma colpirà. Io lo so. Il karma non può colpire il caramatore di professione. L'ho trovato. Tutti l'abbiamo trovato, Loco. Ma io prima. No, secondo me non è così. No, porco. Ma dove cavolo sarebbe, scusate? Ah, prima con la sinistra, è ovvio. Eh sì, ho capito, ma... No, scherzavo. Are you sure about that? Ah, ma è tipo qua. Come faccio ad arrivargli, scusate? Ce l'hai fatta? Ho fatto tutti gli imbalzi, ma non ha funzionato. Credo che ci sia la buca corrotta. Fatto. Come ha fatto? Yes. Ha vinto. Congratto azioni, bella vittoria. Woo! Niko, se aspetta e ti dico come ho fatto. No, non importa, grazie. Cioè, te lo vorrei scrivere in privato su TS, comunque. No, no, non serve. Maron. Eh, vabbè. Ho perso, raga. È finita per Loco. Eh, Loco. Quale è un Maximus? Otto, mi sa. Otto, non me lo dovevi dire. Eh, mi sa che... Oh, sì, sì, sì. Sì, sì. Guarda che curva bella. Sì. Ed è più dieci, poi, il... Sì che Loco va. Sì che Loco se ne va. Eh, sì che è caduto di nuovo. Pesante. Questo qua si chiama comunque Karma. Karma colpirà. Il Karma colpirà. Il Creatore del Karma. Secondo me qua c'è un All-in-One. Per dove, però? Devi rimbalzare sul coso bene. Io non ce l'ho fatta. Anche secondo me lì, però c'è qualcos'altro. Dici di no? No, secondo me è quello. Ma tua sorella... No, lei non gioca a golf. Sta molto meglio di me probabilmente. All-in-One! Ma da Marci! Che leggenda. Che... Sì, il classico ha fatto. GG. Che leggenda, ragazzi. Che leggenda. Adesso vediamo se riusciamo a portarci a casa la partita. Comunque devo dire che Nico ce la colloqua, a prescindere questa cosa. No, non me lo dire. Perché mi metti in mezzo? Io ho detto che io contro nessuno, devo essere in mezzo in tutto. Vabbè qua c'è un All-in-One, abbiamo capito. Dov'è però? Il pomodoro in mezzo a tutto. Ah, l'All-in-One. Che è in tutti i sughi, è un modo di dire. Aspetta, come cavolo? Ma come faccio? Non puoi. Tipo così? Tipo così. Ah, cioè... Sai che l'avevo fatto giusto io? L'avevo fatto giusto? Quello che è leggermente più così, secondo me. Esatto. No, ancora un po' di meno. Ma io non ho rimbalzato in quel fungo lì. Tu dove? L'avevo rimbalzato nell'altro, quello dove c'è il buco a destra. Qui. Ma dove? Dove c'è il tunnel, tipo. Carpale. Oh, ma è più difficile, boh. Non so, non va. Così. E' un mannaccia. Ma perché? Cioè, me lo ho cominciato a facciamo un normale, eh. No. Stavo saltando anch'io nel fungo. La proviamo tutti qua? No, tutti qua. E' un capo pazza. Stavolta c'è? No, di pochissimo! Diamine! Diamine! Più così. L'ho fatta, dai, l'ho avuto che tu porto. Arca puzzolignola! Eh, se Nicola ha fatto, ha vinto. Ma va. Eh sì. No, Marci, stai sbagliando. Ascoltami. Vai, ho l'ultimo tiro. Da quanto poste dove stavi colpendo, leggermente poco, verso... Dove? Eh, non voglio, ed è che sono ascolta anche loco. Dove c'è il tronco? Ecco, come ho fatto loco a destra. Eh, non l'ho visto. Ho avuto i colpi? È tipo... Eh, non so come... Loco c'è, loco c'è, può farlo una volta. Tu stavi colpendo a sinistra, ma devi farlo leggermente a destra. Non a sinistra. Cioè, dal centro a destra. Di quanti... Di quanti... Di quanti cerchiolini? Di quanti quadratini? No, no, no. Solo neanche uno. Sarà tipo un quarto, un terzo di un quadrato. Vediamo. Mi fido, eh? Eh, non so. Ecco, più o meno così. Apprezzo. Apprezzo. Satti che ti ho fatto vincere, eh? Mi hai fatto vincere. Mi ha fatto vincere. Bisogna dire... Le cose bisogna dirle. Loco, ho fatto la dette come si doveva fare. Ma non è vero, è ancora lì. Ti avevo visto io. No, era morto. E qui dove cavolo? Aspetta, qui cerchiamo l'Olin One. Perché l'Olin One, secondo me, è qua sotto? No, non è qua sotto. Pensavo fosse qua sotto io. Non credo che sia legit quello che sto facendo, però ci provo. Sto andando sotto, vediamo? C'è una freccia con un... C'è un... Ho trovato, l'ho trovato. C'è un portale. Allora non è quello che stavo facendo, ok. Non ha funzionato il portale. Ma il portale? Non credo si possa fare, Marci, quella cosa, eh? Io non ho fatto ancora niente, in realtà. Non era loco, allora. C'è un portale. È giallo. Dove lo vedi il portale? Sotto il fungo. Si vede delle cose giganti. Già, ha ragione lui, eh? Cerchio. E come ci arrivi? Io l'ho fatto. Oh, signore. All in one. Come hai fatto? Eh, raga. Ve lo dico perché siete gentili con me. Dovete mirare al fungo. Eh, non è che ci vuole tanto, tu dici, no. Ed è un in one, ragazzi. Mirare al fungo esatto. L'hai visto, loco? Sì. Ce l'ha fatta? E Nico ce l'ha fatta? Sono già in buca. Addirittura? Eccolo qua. Loco Lokis. Attenzione. Ce la fa. Incredibile. Pazzesco. Wow. Io non... Ok, qua si... Qua c'è uno in uno... Eh, un attimo. Faccevo trovare anche a noi. Sbagliato. Ma dov'è? Ora tenterò di farlo. Ma non mi dite che... Oddio, l'ho appena visto. Esatto. Cavolo, quasi al primo colpo. Così, secondo me. Ma no! Ah! Ero dentro! Io primo colpo, raga. Nel chilling. Ah, capito anch'io. Dovete mirare il fungo che c'è dall'altra parte. Bellissimo! Guarda cosa mi fa fare! Ho dei funghi, mi odio. Non in chiama non piacciono i funghi, in realtà. All in one. Però vediamo un attimino come è finita la classifica. Loco non ha superato Nico, vero? Ma va. Attenzione. Loco ce la fa. E Nicuzzo? Già in buca, Nicuzzo. Ragazzi, 54, 65, 83. Diciamo una cosa. Se avessi fatto il 18 dove Nico non mi avesse detto, comunque avrei fatto 64. Quindi nel caso potete giocarvi sta cosa. Ci vediamo la prossima. Marcia è tutto. Bella.